Partiamo dalle parole che stanno facendo molto discutere di Fabrizio Ravanelli, intervenuto ieri sera a Pressing, che per quanto riguarda le esternazioni di Max Allegri post Juventus-Atalanta 2-2 ha detto da allenatore della Juve non può fare quelle dichiarazioni. Ha sbagliato Max, non può dire che abbiamo guadagnato un punto su Bologna da allenatore della Juve, un messaggio che non deve mandare all'interno dello spogliatoio. Sta facendo benissimo, l'ho detto tante volte, però come allenatore della Juventus quella dichiarazione è inopportuna. E' sceso X, è sceso il fu Twitter tra coloro che danno totalmente ragione a Ravanelli e altri che invece prendono le difese dell'allenatore livornese. Innanzitutto voglio dire una cosa, che Fabrizio Ravanelli è una persona di livello, ve lo garantisco, da tutti i punti di vista. Mi sembra che nel corso del tempo abbia ampiamente dimostrato non solamente di essere una leggenda juventina per quello che ha fatto in campo, basti pensare tra i vari apporti alla Champions del 1996, ma anche per come spesso e volentieri ha difeso questa società, ha difeso questo allenatore, ha difeso la storia della Juventus. Ecco, quindi se Ravanelli ha effettuato questo passaggio sulle dichiarazioni di Allegri evidentemente perché ha ritenuto come giusto che sia in piena libertà di dover esprimere il suo punto di vista. Poi, che stimi sinceramente Allegri, per sua stessa ammissione mi sembra un dato di fatto, però uno che ha vissuto determinati spogliatoi, determinati Juventus, se dice così è perché evidentemente sa quello che dice. A differenza mia, a differenza vostra, ha vissuto uno spogliatoio vincente, a differenza mia, a differenza vostra, ha vinto in campo con la Juventus, a differenza mia, a differenza vostra, se dice una cosa, è normale che poi venga amplificata dal momento che la dichiarazione è targata. Fabrizio Ravanelli, sì, onestamente soffermarsi sul fatto di aver guadagnato un punto sul Bologna è un discorso di mera classifica da contestualizzare al pensiero di Allegri, per tapparentesi, io non sono d'accordo con quello che ha detto e sono pro Fabrizio Ravanelli, però dal momento che Allegri dalla prima conferenza stampa stagionale continuo a sostenere che l'obiettivo sia la Champions, è normale che nel suo ragionamento questo turno nei confronti del Bologna abbia portato un più uno, perché tu hai pareggiato con l'Atalanta e banalmente i Felsini si sono fatti battere in casa dall'Inter. È un ragionamento molto provinciale? Secondo me sì, perché non possiamo abituarci, l'ho spiegato anche nel video di questa mattina, al fatto che la Juventus non lotti per vincere, proprio stride con il DNA di questa società. Ovvio che ci sono Juventus e Juventus, come dicevo prima, cioè siamo in un periodo storico di ricostruzione a livello di aria sport, d'altra parte siamo anche in un periodo storico probabilmente della fine del ciclo di Max Allegri a Tobis, a Torino, quindi si è un po' del guado, si è un po' dove tutti hanno ragione, ma la sostanza ci dice che finora questo girone di ritorno proposto dalla Juventus sia allarmante, ma non lo dico per drammatizzare oltre misure la situazione, lo dicono i punti, li abbiamo analizzati ampiamente questa mattina, lo dice il fatto che rispetto alla passata stagione, giornata alla mano, la Juventus stia facendo peggio e non c'è il vociferare extracampo, non c'è l'Europa League di mezzo, quindi è una situazione molto complicata, una situazione difficile, una situazione da raddrizzare, partendo da un successo con il Genoa, ma che abbiamo capito che non è scontato in maniera assoluta. Se nelle ultime sette ne vinci uno al 95esimo con il Frosinone che è in caduta libera, non vedo come uno possa essere tranquillo in prossimità del lunch match di domenica alle 12.30 con il Genoa. Squadra coesa, squadra che ha una bella identità, squadra che ha delle individualità importanti, squadra ben allenata da Alberto Girardino, che mi sembra un tecnico pragmatico, l'ha dimostrato portando il Griffon in Serie A e ora con una media salvezza abbastanza tranquilla. Però in un mare di negatività, permettetemi di fare un piccolo elogio a Wes McKennie. Abbiamo affrontato il tema questa mattina, lo abbiamo fatto non entrando nei dettagli, però Wes, vi garantisco che ha giocato con dolore. Poi ha stretto i denti, ha lavorato molto bene lo staff medico per fare in modo che con un tutore potesse giocare, però è andato oltre il dolore, come ho tweetato questa mattina, dimostrandolo un grande attaccamento alla maglia. Questa è la migliore stagione di McKennie quando era Juventus, basti pensare che con i due assist di IEL è arrivato a quota nove complessivi stagionali, sette in campionato e due in Coppa Italia, e in campionato stiamo parlando di più del doppio rispetto a quanto fatto nelle sue prime tre stagioni proprio a Torino. Quindi Wes sta crescendo in maniera esponenziale, sta giocando ottime partite, anche in difficoltà, perché è una lussazione alla spalla, immagino che sia, che condizioni e non poco, però Wes ha fatto di tutto, ha fatto di tutto per giocare questa partita perché sentiva di doverla giocare, soprattutto consegnando come la Juventus fosse in difficoltà a centrocampo con le defezioni anche di Alcaraz e di Rabiot, e per me questo vale un elogio a prescindere, anche perché poi Wes ieri è stato, nel mio modo di vedere, il migliore, assieme a Cambiaggia, a Trattichiesa e ha fatto in modo che la Juventus quantomeno potesse portare a casa un risultato utile. Io spero davvero che ci possa essere longevità nel percorso di McKennie a Torino, perché da quando è rientrato dal presito a Leeds mi sembra che abbia cambiato mentalità, più prestante, più performante, più atleta in generale, e la Juve ha davvero bisogno di calciatori con queste caratteristiche per cercare di risollevare le sorti di un centrocampo che ha una mediocrità disarmante, io ve l'ho già detto, allegri o non allegri, la Juve a centrocampo deve rifondarlo, deve rivisitarlo quasi totalmente, poi è vero che era stato pensato con due giocatori in più, Fagioli e Poguama, ma resta il fatto che questo centrocampo non è minimamente a livello del blasone della Juventus che tutti noi conosciamo. Un piccolo aggiornamento anche di campo, perché questa mattina la Juventus ha fatto scarico, cosa significa scarico? Fisioterapia, piscina, eccetera, eccetera, per coloro che hanno giocato ieri, gli altri invece hanno fatto una partitella con i ragazzi della Next Gen, i 45 minuti in cui hanno segnato Vlaovic e Bangula, c'erano tra i vari calciatori Bonetti, Cerri, Firman, Florea, Giorgio, Jocolano, Mancini, Bangula, che punto che ha segnato, Palumbo, Scaglia, Stramaccioni, Turicchia, che mi piace molto, un bel laterale, Birnaci che importa, qua c'è da capire se Rabiocce la farà per il Genoa e mercoledì si capiranno meglio le sue condizioni, ma anche quelle di Mattia Perin, che è da un po' di tempo fuori, mentre domani sarà un giorno off, un giorno di riposo per tutti, quindi sostanzialmente oggi scarico questa partitella interna e domani off, mercoledì la ripresa degli allenamenti, con le condizioni di Adrian Rabiot da valutare, c'è un cauto ottimismo sul fatto che possa rientrare per la partita di domenica con il Genoa, che partita sarà, boh, con questa Juventus dobbiamo aspettarci davvero di tutto.